. Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 15 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Benvenuto al piccolo Mercurio. Pochi giorni fa Marte, ora Mercurio e tra poco più di una settimana anche Venere, tutti nel vostro segno insieme al Sole e a Plutone, chissà che assembramento. E allora datelo il benvenuto al piccolino, il più dinamico e disinvolto tra gli astri del Sistema Solare. Probabilmente sotto il raggio del pianeta rosso si farà più polemico, pugnace, regalando una gran carica a tutti i vostri pensieri, le parole, le azioni. Qualsiasi scelta, qualsiasi azione abbiate in mente di compiere, fatelo subito, non perdete tempo prezioso e anche se l'astro guida a Saturno, il riflessivo per antonomasia, vi consiglia di attendere, stavolta non dategli retta, soprattutto sul fronte del cuore, che con Giove intrigono reclama subito risposte, ogni lasciata è persa. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Massima prudenza nel guidare e particolarmente oggi cercate di non distrarvi, soprattutto evitate di gudare nelle ore notturne o se piove. Ambizione. Magnetismo. Denaro in più, se sei un libero professionista. Un tuo desiderio si potrà avverare. Emotività. Un capricorno potrebbe interessarti mentre un saggitatrio ti farà la corte. Vi accorgerete che il tempo passa e leviga ogni cosa, certi antichi rancori risultano smussati dal tempo. Forse è in caso di tentare una riappacificazione ritenuta impossibile fino a qualche tempo fa. Giornata decisamente stonata, riprenderete in serata l'abituale controllo, ma prima vi risulterà particolarmente faticoso. Buone nuove per gli affari o anche per piccole iniziative che vi vedono impegnati socialmente. Avete dalla parte vostra gli astri che vi faranno sentire in gran forma. Troppo tempo a cellulare vi faranno perdere il gusto della vita e creeranno un certo disordine facendovi perdere il gusto dei contatti diretti con le persone. L'umore si fa scuro, la pazienza si riduce ai minimi termini, oggi siete una vera mina vagante. Non lasciatevi prendere da questo stato d'animo e cercate di recuperare in serata la tranquillità necessaria. Una vecchia conoscenza torna a farsi vivo, è proprio vero, a volte ritornano. I nati di lunedì avranno noie sul lavoro e si sentiranno stanchi. Per gli altri normale routine. Ma che fatica! Mercurio ritorna nel vostro segno e si unisce alla positività globale di Urano, Nettuno, Marte, Plutone, Saturno e il Sole che continuano a rallegrarvi complessivamente producendo buona salute, grinta vitale, razionalità. Non manca un apporto consistente di sana concretezza che immettete in diversi ambiti della vostra vita, dalla famiglia alle amicizie. La luna in pesci vi consente la risoluzione dei problemi, pochissimi, e vi dona sogni molto romanzati che coinvolgono casi, mezzi di trasporto e treni in corsa. Il treno e le ferrovie in generale sono simboli del Capricorno. Un nuovo arrivo oggi per voi sul quarto binario, si tratta del piccolo Mercurio che dal Sagittario parte alla volta del vostro segno apposta per raggiungere Marte, il Sole e Plutone già presenti, tutti quanti in buona amicizia con il vostro astro guida Saturno abbracciato alla luna in pesci e con Giove in toro, segno di terra, in perfetta sintonia col vostro. Per manifestare i sentimenti non occorrono parole, oggi i fatti dicono molto di più. Amore ed Eros Amore nelle retrovie, oggi non vi va di parlare di sentimenti, se il rapporto c'è se ne sta tranquillo al calduccio in un angolino del vostro cuore, se manca non ne fate una tragedia. Dopo tutta la solitudine e il presupposto della meditazione, tutti i grandi guru, gli asceti, gli iniziati, i santi hanno vissuto quest'esperienza, un passaggio obbligato e a quanto pare interessante. Se il partner vi ha piantati in asso pensate al proverbio morto un papa se ne fa un altro, troverete un'altra persona più compatibile e in grado di rendervi felici e di condividere il vostro cammino. Figli in gamba, affettuosi e tranquilli, vi capite al volo, naturale, condividete lo stesso DNA. Inviti in casa di genitori e parenti vari possono intralciare la possibilità di condurre in modo autonomo il legame a due. C'è la necessità infatti di conciliare le ragioni della famiglia d'origine con quelle della coppia. Con Venere e Mercurio al vostro fianco la ragione si coniugherà felicemente col sentimento e anche il vostro partner troverà la maniera giusta per affiancarvi nel gestire la situazione con garbo ed equilibrio. Lavoro e denaro. Giornata ben equilibrata tra studio, lettura, riflessione da un lato e attività all'ai aperta, sci e sport dall'altro. La sera non vi fate mancare neppure uno spettacolo, cinema, teatro o concerto, qualcosa in grado di smuovere le vostre emozioni perché azione ed emozione in una persona completa e risolta dovrebbero sempre procedere a braccetto. I pianeti del successo, Saturno, Giove, Marte, Mercurio, Urano e Plutone, sono in ottimo aspetto e promettono faville, se siete liberi professionisti. Oggi che è lunedì comprendete che la vostra carriera sta per prendere il volo. Sta però anche a voi mettervi ai nastri di partenza e non avere esitazioni. Benessere. Rampanti e vitali, anche in un ambiente freddo e disagevole per tutti vi sentite a vostro agio avvertendo perfino un senso di calore. Sarà la forza del cuore e delle emozioni, oppure l'eccitazione del momento. Nulla da aggiungere o da togliere, state benone così. Per lei, una mano ai vostri figli alle prese con i compiti in classe e le interrogazioni di gennaio. Mese orrorifico, in cui si tirano le somme. Per lui, giornata perfetta per lo sci, protetta contro cadute e guai, non resta che approfittarne, sentitevi campioni. Colore delle emozioni, rosso fuoco. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.